Le arance sono protagoniste della nostra alimentazione invernale, non solo come frutta, ma anche come base di preparazione di piatti, sia salati che dolci, che vengono così arricchiti delle qualità nutrizionali che proprio le arance hanno. Primo fra tutte è il potere antiossidante che questo frutto possiede, contrastando i radicali liberi ed acquisendo un'attività antitumorale e anti-invecchiamento. Inoltre c'è da ricordare che le arance, soprattutto quelle rosse, agiscono rinforzando il nostro sistema circolatorio, andando a contrastare quella che è la fragilità capillare. In più, ottima è l'azione a livello di drenaggio dei liquidi, contrastando la ritenzione idrica, ma anche riducendo l'accumulo degli acidi urici. Le arance inoltre consentono di migliorare la digestione e proprio per questo il loro impiego nell'utilizzo di dolci e nella preparazione di piatti particolarmente ricchi e calorici può risultare veramente utile, proprio perché favoriscono la digestione degli stessi. Da non dimenticare però che esistono proprio due limiti. Il primo è che, essendo dei promotori della digestione e dell'attività gastrica, possono risultare irritanti a livello gastrointestinale. Il secondo è che, seppur i dolci vengono arricchiti delle qualità nutrizionali delle arance, acquisendo sicuramente un potere benefico, sono comunque da consumare con limitazione soprattutto nel momento in cui si ha a che fare con un regime ipocalorico.